E Rai Foreman col palleggio aperto, mano sinistra, dietro la schiena, incredibile! Attenzione, Rai Foreman, 3-6-9! Isolamento contro Barnell, 7 secondi, può andare fino in fondo, ottiene il cambio, Cobbins, si prende un'altra triple! Contro della Valle, Bullhandling, clamoroso, arresta il giro! Beh, beh, Rai Foreman col flotter in corsa! Voleva sbagliare questo, figuriamoci! 18 clamorosi punti di Justin Rai Foreman! E qui, 4 su 4, che diventa 5 su 5 nel suo match, 7, anzi sotto i 7 da giocare, Rai Foreman! Tresimo punto per un debutto!